In questo quinto video sul passivo vedremo il passivo con i verbi modali. Vediamo questa frase che contiene un verbo al passivo con i modali, la mia stampante non può più essere riparata, si dirà mindrucker, quindi è maschile, dovrò coniugare il verbo modale, quindi non è più il verbo verden che devo coniugare, ma semplicemente kann, il verbo können, quindi mindrucker kann, e poi in fondo la frase avrò il participio passato, quindi ripariert e poi il verbo verden. Quindi quando abbiamo il passivo con i verbi modali abbiamo il modale che coniughiamo, quindi in questo caso kann, e poi abbiamo appunto il participio passato ripariert e verden, sempre uguale, ripariert, verden, e quindi è kann che devo coniugare, la mia stampante può essere riparata. In italiano abbiamo essere, in tedesco abbiamo verden, può essere riparata, in tedesco c'è prima il verbo ripariert e poi verden, e quindi il contrario, kann, ripariert, verden. Quindi se voglio gli altri tempi verbali dovrò coniugare sempre il modale. Al preteritum avremo, la mia stampante non potè essere riparata, ma indrucker, konnte, nicht mehr, ripariert verden. In questo caso appunto abbiamo coniugato können al preteritum, konnte, e poi abbiamo ripariert verden, il participio più verden. Ecco, per quanto riguarda il perfect, attenzione, la mia stampante non ha più potuto essere riparata, per quanto riguarda il passivo con i modali si usa sempre il verbo avere, quindi non si usa più il verbo essere come con gli altri verbi, quindi mein Drucker hat, nicht mehr, e poi avremo il participio verden, non più worden come prima, e poi il verbo all'infinito. Quindi abbiamo il verbo avere, il participio passato del verbo, e poi due infiniti, prima werden, e poi il modale. Ecco, per quanto invece riguarda il plus come perfect, dei vari modali, è molto simile al perfect, in pratica invece di avere hat, ha, hat, la forma verbale è comunque la stessa, quindi la mia stampante non aveva più potuto essere riparata, è mein Drucker hat nicht mehr, ripariert werden können. Quindi abbiamo il verbo avere al preteritum, sempre il verbo avere, più il participio passato, più werden, e più il modale all'infinito. Quindi quando abbiamo il passivo con i verbi modali, abbiamo il modale che coniughiamo, quindi in questo caso kann, e poi abbiamo appunto il participio passato, ripariert e werden, sempre uguale, ripariert werden, e quindi è kann che devo coniugare, la mia stampante può essere riparata, in italiano abbiamo essere, in tedesco abbiamo werden, può essere riparata, in tedesco c'è prima il verbo repariert e poi werden, e quindi il contrario, kann repariert werden. Quindi se voglio gli altri tempi verbali dovrò coniugare sempre il modale. Ecco, vediamo adesso altri esempi, sempre con i verbi modali, vedremo la frase all'attivo, nella sua trasformazione passiva. Di poliziai kann den diep verhaften, la polizia può arrestare il ladro. Den diep diventa der diep, quindi soggetto, e poi dobbiamo coniugare appunto il verbo modale, quindi non più il verbo verde, quindi kann, di poliziai diventa complemento d'agente, von der poliziai è un'istituzione, quindi si usa von, e poi il verbo participio più werden, quindi modale, participio più werden, da diep kann von der poliziai verhaftet werden. Questo è il presente del passivo. La polizia quindi può, il ladro può essere arrestato dalla polizia. L'esempio al preteritum in pratica è come sopra, ma in pratica invece di avere kann, o konnte, e quindi dovrò coniugare il modale konnte e avremo participio più werden, quindi da diep konnte von der poliziai verhaftet werden, poter essere arrestato dalla polizia. Allora, il passivo con i modali al perfect e al pluscan perfect. Abbiamo visto che non si forma con il verbo essere come con gli altri verbi, ma si forma col verbo avere. Allora, prima di tutto, il verbo avere l'avevamo già al perfect nella frase attiva, quindi la polizia ha potuto arrestare il ladro, il poliziai hat den diep verhaftet werden. Abbiamo qui il doppio infinito, perché? Perché quando abbiamo i verbi modali, il perfect, ma anche il pluscan perfect, nell'attivo si forma appunto con l'infinito e non col doppio, e non col participio passato. Per chi non lo sapesse, guardi il video sui modali, su come si formano i tempi dei verbi modali nella frase attiva. Allora, nella frase passiva avremo il ladro, quindi die a diep, ha potuto essere arrestato dalla polizia. Quindi hat von der poliziai, il complemento d'agente, e poi abbiamo il participio, qui si usa nella frase passiva, verhaftet e poi i due infiniti, il werden e poi il modale, werden können. Quindi abbiamo il verbo avere al presente, il participio passato e poi werden e poi l'infinito del modale. La stessa cosa con il pluscan perfect, ma al posto di avere hat avrò hat. In pratica abbiamo il preteritum al posto appunto del verbo hat, nella frase precedente. Quindi poliziai hat den diep verhaftet können, diventerà der diep hat von der poliziai verhaftet werden können. Quindi abbiamo il preteritum del verbo avere, più il participio passato, più werden, più il verbo modale all'infinito. Bene, siamo giunti al riassunto anche per quanto riguarda il passivo con i verbi modali. Vediamo appunto la frase attiva e la frase passiva di poliziai must den diep verhaftet, la polizia deve arrestare il ladro, diventa der diep, must verhaftet werden, il ladro deve essere arrestato. Quindi qui si coniuga il verbo modale. preteritum, la polizia dovette arrestare il ladro, quindi il poliziai must den diep verhaftet, diventa der diep must verhaftet werden, quindi anche qui si coniuga müssen al preteritum. Il perfect e il plus perfect sono molto simili, abbiamo molte voci verbali. Il poliziai hat den diep verhaftet müssen, e la polizia ha dovuto arrestare il ladro. In questo caso si usa il verbo avere, sempre il verbo avere con i verbi modali. Der diep hat, poi abbiamo il participio verhaftet werden müssen. La polizia ha dovuto, anzi il ladro ha dovuto essere arrestato. Poi abbiamo il plus come perfect di poliziai hat den diep verhaftet müssen, che diventa, cambia praticamente pochissimo rispetto al perfect, è soltanto hat che diventa hat. Cioè in pratica il verbo avere si coniuga al preteritum, quindi der diep hat, il participio passato, il verbo werden all'infinito, e anche müssen. Ricordatevi che per quanto riguarda il perfect, non è più worden come per i verbi, gli altri verbi, ma con i modali si usa werden, non più worden. Il futuro non l'avevamo visto, lo vediamo. La polizia, di poliziai wird den diep verhaftet müssen, dovrà arrestare il ladro, diventerà der diep wird verhaftet werden müssen. In questo caso si usa werden più infinito, quindi wird, participio, poi abbiamo werden, e poi abbiamo ancora müssen. non è così usato, ma comunque c'è anche il futuro del passivo.